Per storie, un'altra storia, una storia bella, una storia di una cantante brasiliana, Rosalia de Sousa, che qui a Cava di Tirreni ha portato non solo la voce del Brasile, ma l'anima del Brasile. Amor, non avrà un altro dia, che possa mi trazer tanta alegria. Rosalia de Sousa, Cava di Tirreni, una voce, dicevo, una voce che dà l'anima al Brasile, ma con l'anima arriva a Cava di Tirreni. L'anima, perché in questa vita c'è bisogno di più anima. Diceva Pino Daniele, no? Come si dice, interrotto un attimo, perché mi è venuta proprio questa cosa dell'anima di Pino. Oggi farò una canzone anche sua, in omaggio a Pino Daniele. Pino Daniele per te è stato importante, o quantomeno anche Pino Daniele ha preso delle musiche brasiliane durante le sue canzoni. Sì, beh, la ritmica di Pino Daniele è sempre stata molto vicina a quella brasiliana. E poi era una delle poche cose italiane che arrivava in Brasile da quando ero piccola, insomma, quindi l'ho apprezzato molto. Principalmente il fantastico album Nero a Metà, che è proprio bellissimo. Lo sentivo quasi tutti i giorni, appena arrivata in Italia lo sentivo tutti i giorni. Sì, mi faceva stare bene, mi faceva stare più vicino alla mia terra, non so. E quindi l'ho sempre apprezzato moltissimo. Le sofferenze brasiliane portano a stare male. E questa saudagi ci dà, che non è nostalgica, è una speranza per andare avanti, è una speranza di avere cose buone. È una positività, in verità. Non è nostalgica, non è triste. Al contrario di quello che molte persone pensano, insomma. La tua storia è particolare, sei partita dal Brasile, sei arrivata in Italia. Già allora avevi delle doti canori importanti, o quantomeno qualcuno in Italia l'ha scoperto. Ha scoperto che avevi una gran bella voce. Sì, in verità, chi ha scoperto che aveva una bella voce sono stati i miei amici. Perché appena sono arrivata mi avevano regalato un sassofono. E io sono entrata a scuola di musica per suonare il sassofono. Però, sai, aspettando il posto per fare il sassofono, ho intrapreso questo studio della voce e mi è piaciuto da morire. E ho venduto il sassofono e mi sono comprato il microfono. Perché, d'altra parte, mi dicevano sempre i miei amici che bella voce che hai, che bella voce che hai, che bella voce che hai. Sì, io cantavo da quando avevo quattro anni di età, però non avevo mai pensato fino ad arrivare in Italia, a 22 anni, che potessi fare la cantante. Tu proveni da una zona del Brasile dove c'è una Nilopolis. Sì. C'è una grande scuola di samba. Abbiamo vinto quest'anno il Carnevale alla Beja Flor. Perché Nilopolis poi è nell'Interland di Rio di Janeiro. E quindi è un posto abbastanza lontano dove ci sono le famiglie povere. Insomma, vengo da una famiglia molto povera, se vogliamo. E non c'era nessun artista nella mia famiglia. Quindi questa scoperta di un talento vocale mi ha fatto molto piacere e ha dato anche molto orgoglio ai miei genitori, alle mie sorelle. Insomma, tutta la famiglia molto felice della mia carriera che si è sviluppata tutta in Europa. La tua carriera è, tu sei una cantante di jazz e anche di bossa nova. Vogliamo spiegare cos'è la bossa nova a chi non mastica musica? La bossa nova è il jazz però brasiliano. Cioè, Ton Jobin che ha fatto la storia della musica brasiliana nel mondo ha messo nella ritmica brasiliana gli accordi jazz. E quindi questa musica che è stata un connubio perfetto tra le due anime, diciamo così, della musica, si sono mescolate perfettamente. Una delle grandissime interpreti della bossa nova, possiamo chiamarla jazz brasiliano, era Elise Regina ed è stata una delle mie idoli. Insomma, da quando ero piccola seguivo sempre quello che facevo, ho visto anche il suo ultimo concerto prima che morisse. Quindi ho un legame molto speciale con questo tipo di musica. La musica brasiliana è molto vasta. Ogni regione ha la sua musica folclorica, diciamo così, come è anche in Italia. Però la bossa nova è quella che io sento molto più appartenente alla mia cultura. Molti dicono che tu sei molto molto brava dal vivo. I tuoi dischi però sono limitati per poche persone. Il tuo essere così presente con il pubblico, il tuo essere vicino al pubblico, ti dà una carica maggiore rispetto al disco? Assolutamente sì. Il disco è un prodotto di studio, è un prodotto commerciale che va nei negozi, quindi sei preciso, perfetto. Invece sul palco è la carica emotiva che fa sì che le persone apprezzino quello che io faccio perché sono molto più vicina a loro. Posso parlare con il pubblico, non sono perfetta, non faccio le note proprio perfette, però c'è questa emozione nel cantare che io ho che le persone accolgono molto facilmente. è questo che fa sì che le persone mi seguano, che mi amino, se posso dire sì. Le persone mi amano e questo mi fa molto molto piacere. Il Brasile di ieri è diverso dal Brasile di oggi con tutte le sue contraddizioni e tu lo segui un po' da lontano, qualche volta vai in Brasile. Quali sono le differenze che hai notato in questi vent'anni, grossomodo? Oddio, sono state tante le differenze, principalmente economicamente il Brasile è cresciuto molto, principalmente in questi ultimi anni. Le difficoltà, sai, la gente povera è sempre povera, sono cresciuti un po' perché l'evoluzione, sai, internet, fortunatamente in Brasile tutte queste compagnie telefoniche, che per esempio investono in musica e quindi ha sviluppato una maggior, non so, maggiori interessi per le persone per la musica. Molto spesso quello che mi viene più all'occhio da dire rispetto alla musica è che prima le persone non spendevano molti soldi per andare a divertirsi, perché comunque ce n'era divertimento dovunque. invece negli ultimi anni le persone preferiscono pagare un prezzo più alto per vedere la musica perché anche la qualità della musica si è alzata. Quindi l'evoluzione continua, un'evoluzione continua. Certo, economicamente il paese è cresciuto molto, la classe media è diventata più ambiente, non si vede più tanto questa disfase tra la gente molto ricca e la gente di medio livello. Sì, la gente povera c'è sempre, ma voglio dire c'è dappertutto. Il Brasile in questi ultimi anni ha avuto due importanti avvenimenti, parliamo del campionato di calcio e adesso le Olimpiadi. Quest'anno saranno le Olimpiadi, sì. No, l'anno prossimo, il 2016. La cosa che lascia un po' perplessi è questa grande spesa pubblica che probabilmente a qualcuno dice il Brasile farà la fine della Grecia perché sono tanti soldi che stanno spendendo, tanti impianti che stanno mettendo in cantiere e poi che succederà? Il brasiliano cosa ha di diverso rispetto ad un greco che non ha sfruttato le opportunità? Bom, principalmente abbiamo 200 milioni di abitanti e questo fa una ricchezza già di per sé. Il Brasile è un paese molto grande e non ha bisogno di niente, di nessun altro paese. Diciamo così, noi abbiamo il petrolio, i minerali, abbiamo tutto, tutto. Quello che è cambiato in questo periodo io non vedo tutta questa difficoltà nell'accettare tutte queste opere di miglioramento delle città perché ci sono diverse città che hanno fatto delle opere per i mondiali. Credo che il brasiliano povero ancora non riesce a vedere quanto può essere economicamente vantaggioso per un paese fare una manifestazione del genere perché tutto quello che hanno fatto è stato per creare lavoro. Molte persone hanno lavorato per far sì che queste nuove strutture rendessero. Quindi io credo che sia un bene per il paese. Io personalmente credo che sia un bene. Certo, sarebbe stato più bello che così umanamente parlando che non si facessi i mondiali in Brasile ma che dessero tutti quei soldi per mettere nuovi ospedali per dare infrastrutture per le persone ma bisogna anche guardare avanti e quindi credo che la mente delle persone non tutte riescono a vedere avanti. e il governo invece è obbligato a vedere queste e fare delle scelte che magari sono antipopolari ma che in realtà hanno dato tanto lavoro e continueranno a dare insomma perché l'inventiva del brasiliano esiste quindi ognuno ha fatto di questa manifestazione così come sarà anche per le Olimpiade una valvola di sfogo per le proprie idee. C'è un'altra valvola di sfogo per le proprie idee il jazz brasiliano che qua è impossibile di percepire e umanamente ci sono certi posti in italia che mi danno lo stesso calore qua per esempio un posto che mi sento a casa mia ma sono le persone, il Brasile è fatto di persone, il fatto che tu arrivi e da perfetto sconosciuto conosci una persona e ti portano a casa, ti fanno mangiare, conosci i genitori, conosci la famiglia è tutta una grande famiglia, le persone hanno questa voglia di partecipare alla propria vita con gli altri questa è una cosa che in italia non c'è, non c'è molto, diciamo così, in alcune parti sì ma la maggioranza delle persone non sono così la minnet jazz è un ambiente un po' particolare, siete molto di nicchia, molto amici in qualche modo vi scambiate anche delle impressioni musicali, anche dei posti musicali chi sono i tuoi amici oggi, quelli di cui tu puoi fidarti effettivamente? i musicisti con cui lavoro, tutti, tutti credo che siano abbastanza amici vogliamo ricordarli? Aldo Vigorito, Antonio De Luisi, Alfonso De Ida, Sandro De Ida, Amedeo Ariano che oggi non c'è Roberto Rossi, Roberto Taufic, Edoardo Hebling, Mauro Tre, tutti i musicisti con cui lavoro da una vita i Quintetto X che è un gruppo con cui, il primo gruppo con cui ho lavorato seriamente per un disco che sono pugliesi, Francesco De Giosa, Fabio Accardi, Pietro Vincenti, Marcello Piarulli, Anton Giulio Galeandro sono delle persone che sono diventate nel tempo, visto che comunque sono una persona sola in questo paese non una famiglia, sono delle persone che sono diventate le mie famiglie domani mattina ti dicono vieni in Brasile, ritorni in Brasile, resta qui in Brasile perché sei direttrice responsabile di uno dei più grandi musical del Brasile che fai? Che fai Rosalia? Non credo che potrei accettare, no, non per il momento, magari un po' più in là perché la mia vita professionale si è svolta qua, è cresciuta qua e il seguito delle persone ce l'ho qua quindi sì, il mio pensiero è di tornare in Brasile ma quando avrò la possibilità di salire sul palco e cantare ma non per sopravvivere, non per vivere ma per divertimento allora sì, potrei accettare la direzione musicale, artistica di un posto bellissimo e impegnarmi per scoprire ancora di più la musica brasiliana con i suoi piccoli talenti che poi nel tempo diventano sempre più grandi ma al momento non credo, non credo sia possibile Un saluto agli ascoltatori di storia da parte tua in brasiliano ci farebbe piacere a Quarta Rete RTC Fui un prazer di stare anche con voi, Quarta Rete spero di vedervi presto, ciao Grazie a tutti Grazie per la visione!